di fatto parleremo Marco Esposito ci parlerà di Dynamo che da qualche release è entrato ed è diventato insomma uno degli elementi presenti anche all'interno di Civil per cui come andare ad utilizzare Dynamo in Civil per sviluppare delle procedure che non sono magari di per sé così come avviene per Revit native del software ma laddove vi è la necessità di replicare una serie di azioni sviluppare fondamentalmente in modo personalizzato dei comandi o dei processi all'interno del software Dynamo rappresenta proprio la strada ideale per poter organizzare delle attività ovviamente lo si fa in un ambiente dedicato quello di Dynamo appunto che attraverso la composizione di nodi grafici consente di costruire delle istruzioni, delle procedure e Dynamo sostanzialmente è questo perfetto Alessandro posso partire tanto sono un caffè al volo quindi si può partire Ok, perfetto Sì, il Computational Design per l'Ibeam Finalmente, finalmente è arrivato anche Dynamo per Civil 3D lo aspettavo da vari anni Che cos'è? Giusto una slide con due o tre parole poi partiamo con un qualcosa di pratico Allora, Dynamo per Civil 3D è un'applicazione di programmazione visiva che è possibile utilizzare per automatizzare le attività in Civil 3D Bene, che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto uno strumento come Dynamo permette di ottimizzare i flussi di lavoro Il flussi di lavoro è che comunque è possibile creare all'interno di Civil che sia appunto la creazione di una superficie, per quanto riguarda l'estrazione dei solidi o anche, è interessante a volte cercare anche su internet, su YouTube vi consiglio di cercare appunto questi script di Dynamo per Civil 3D che vengono creati da tanti colleghi esperti che appunto mostrano quali sono, diciamo appunto, qual è l'utilità cosa consiste questa ottimizzazione questa automazione, questa ottimizzazione dei processi è interessante vedere come appunto uno script di Dynamo permette anche di ottimizzare il flusso di lavoro per la creazione e gestione delle reti impressione oppure le reti a gravità stessa cosa all'interno del modellatore, le estrazioni delle linee caratteristiche oppure la possibilità di poter ottimizzare anche le informazioni legate ad ogni oggetto o la possibilità di poter accedere quindi al set delle proprietà di Civil e di poter quindi aggiungere, o meglio, modificare, aggiornare in automatico le proprietà cioè seleziono elemento, perfetto, tasto testo proprietà, visualizzo nome, materiale, regione ok, ho la possibilità di poter aggiornare in automatico quelle proprietà in base a uno script di Dynamo faccio un esempio, estrago un solido dal modellatore, dalla rete bene, dopo devo andare a associare i materiali solidi sono in grado attraverso Dynamo di creare uno script ad esempio estrago un solido dalla rete idraulica, dalla rete impressione bene, estrago il solido e andare a impostare di conseguenza poi il materiale al solido bene, attraverso Dynamo sono in grado di creare uno script e dire vedi che tu solido, devi avere lo stesso materiale che io ho assegnato all'interno dell'elenco party quando ho creato la rete impressione e quindi in automatico prendi quel materiale e vado ad associare al solido e poi mi aggiungi all'interno del set delle proprietà anche la voce materiale aggiornando quella proprietà al variare del materiale dell'elenco party quindi si aggiorna l'elenco party, si aggiorna la rete idraulica si aggiorna l'elenco party, si aggiorna la rete impressione si aggiorna anche il materiale associato al solido e si aggiorna anche il set delle proprietà ok, quindi, ripeto, creare degli script con Dynamo permette, diciamo, di ottimizzare il flusso di lavoro in che modo? sulla destra ho inserito appunto queste due o tre librerie che rappresentano appunto la libreria dei comandi di Civil all'interno di Dynamo o meglio, ovviamente, comandi, diciamo, nudi in realtà, è più corretto dire nudi e quindi, vedete, nella prima colonna, nella prima immagine, libreria è appunto, diciamo, è contenuta proprio la voce Civil 3D e poi ci sono una serie di categorie legate agli oggetti tracciato, oggetti di Civil, punti cogo corrido, modellatore, superficie e poi selection che mi permette di selezionare gli oggetti di Civil e importarli all'interno e riconoscere all'interno di Dynamo quindi, vedete, ho la possibilità di creare degli script per ogni oggetto di Civil poi, ovviamente, noi all'interno di Civil abbiamo la possibilità di Dynamo abbiamo la possibilità di poter scaricare dei pacchetti e quindi questi pacchetti che vengono rilasciati durante tutto l'anno quindi ogni tanto anche io vado a fare qualche ricerca visto che comunque possono essere caricati da un qualsiasi tecnico che crea un nudo personalizzato lo carica all'interno lo mette a disposizione, diciamo, di lo mette a disposizione di tecnici e quindi a quel punto uno va, cerca il pacchetto Civil, se trova qualcosa di nuovo se lo scarica e quindi si ritrova ad avere dei nudi che appunto il giorno prima non aveva quindi ogni tanto qualche ricerca non fa male e vedete che questi pacchetti, in particolar modo, ce n'è uno che si chiama Autodesk che vi consiglio di scaricare che appunto aumenta i nudi, il numero di nudi per ogni oggetto ad esempio, vedete, abbiamo la possibilità di aggiungere cioè questo pacchetto aggiunge ulteriori nudi alla scheda AutoCAD, Civil 3D alla parte dei tunnel alla parte dei pipe networks quindi alla parte delle reti idrauliche quindi tutta una serie di informazioni altra cosa, altro pacchetto appunto è InterCivil Dynamo che permette anche qui di poter utilizzare ulteriori nudi quindi in realtà, ripeto l'anno scorso quando uscì Dynamo essendo la versione 1 la versione 0 bisognava ancora attendere per poterlo utilizzare era interessante comunque vedere che era possibile già fare qualcosa ma era ancora poco quest'anno vi dico che nel giro di un anno aprile-aprile è cambiato tanto tanti numeri nudi l'interoperabilità è aumentata l'interoperabilità è inteso il numero di nudi all'interno di Dynamo è aumentato quindi possiamo fare più operazioni e creare più script all'interno di Dynamo appunto legati a Civil bene che cosa vi voglio far vedere? per far capire appunto l'ottimizzazione voglio fare un confronto fare un confronto come creare una superficie TIN da un file testo a partire utilizzando l'approccio Civil 3D utilizzando l'approccio Dynamo for Civil 3D quindi vedendo quali sono i passaggi che impiega uno e quali sono i passaggi i passaggi, i tempi per poter creare la superficie a partire da un file testo utilizzando direttamente Civil oppure utilizzando Dynamo bene passiamo direttamente a Civil ok allora facciamo così perdonate voglio ci vedere giusto qualcosa bene basta giusto un file ok e partiamo devo creare all'interno di Dynamo di Civil una superficie che parte da un file del genere è un file testo è un file che ha una certa che ha un certo formato un formato pensd ovviamente chi conosce Civil sa che comunque quando si importa un file testo bisogna comunque impostare e riconoscere bisogna conoscere qual è il formato che viene utilizzato all'interno del file testo in questo caso è un formato separato con virgole e prevede punti est nord quota descrizione bene ora che cosa accade? io voglio importare all'interno di Civil i punti però la superficie che io voglio realizzare non deve essere costituita non è costituita da tutti questi punti perché in realtà la descrizione non è solo GRND che sta per ground per terreno ma abbiamo appunto altri punti con altre descrizioni bene voglio creare in realtà una scheda voglio creare una superficie che sia in grado appunto che scusi che scusami che lega solo i punti con la descrizione GRND perfetto allora come procedo? ovviamente io sono in grado di poter andare a dire a Civil di importare il file questo qui di do il tempo che riconosco il file seleziono il formato dei file corretto perfetto numero di punti est, nord quota, descrizione, origine perfetto e faccio ok io do il tempo che carichi i punti aspetto perché ancora non li ha messi perfetto qui sulla sinistra vedo che mi ha creato che mi ha importato i punti perfetto ok e quindi noto i punti a questo punto mi occorre che cosa? creare un gruppo un gruppo di punti che contenga solo i punti che hanno una certa descrizione cioè voglio crearmi un gruppo che contenga solo i punti che hanno una descrizione GRND e in automatico scusate voglio che poi in automatico voglio che la superficie mi vada a creare la superficie voglio che venga creata solo con quel gruppo di punti e quindi a questo punto mi devo creare il mio gruppo di punti quindi importo il file devo creare il gruppo e poi creo la superficie prima il contenitore e poi vado a selezionare il gruppo di punti che andremo ora a creare ad esempio questo lo chiamo GRND gli dico includi descrizione GRND vedo se l'elenco è quello corretto perfetto importa solo i punti GRND perfetto gli lascio tutto così com'è anche in termini di stili perfetto e faccio ok infatti vedo che di default era associato un'etichetta e quindi vedete che lo stile del gruppo GRND si differenzia dal gruppo tutti i punti perché appunto ha una descrizione i default invece i punti quando sono stati importanti avevano come stile etichetta nessuno e quindi non vediamo nessuna etichetta e quindi possiamo vedere appunto abbiamo due gruppi uno sulle punti GRND e un altro invece tutti i punti a questo punto mi creo la superficie gli do come nome superficie TIN bene lascio tutto così com'è e procedo ok ho creato il contenitore e gli vado a dire no senti però mi devi prendere il gruppo di punti GRND non tutti i punti applica e faccio ok ok e quindi mi crea la superficie ovviamente applico le modifiche al contorno applico delle ulteriori modifiche cambio lo stile perfetto però mi creo la superficie e a questo punto che cosa mi accorgo che i passaggi che io ho effettuato per creare la superficie sono stati innanzitutto devo capire il formato il mio file testo come è costituito quindi la descrizione la formatazione il formato del mio file testo quindi ovviamente leggo le colonne vado all'interno di Civil vedo se è già presente il formato nel caso non fosse presente devo andarmi a creare un determinato formato devo crearmi un gruppo di punti che contenga solo parte dei punti parte del gruppo dopodiché mi creo la superficie creo il contenitore e poi vado a selezionare l'elemento che mi occorre bene questi sono i passaggi sono 3-4 passaggi in realtà non è così non è difficile alla fine non impieghiamo tanto tempo però ovviamente una cosa è che conosco già il file ed è qualcosa che ho già fatto altra cosa invece diciamo leggere e quindi farlo da zero questi sono i passaggi che occorre fare ora invece mettiamoci a creare la stessa superficie invece di utilizzare il metodo Civil un approccio di Civil l'approccio Civil l'approccio Dynamo bene allora a differenza della 2020 all'interno della versione 2021 ho trovato i comandi di Dynamo già installati quando ho scaricato il programma l'anno scorso nella versione 2020 di Civil invece occorreva andare all'interno diciamo della propria diciamo della propria pagina Autodesk selezionare Civil diciamo aggiornamenti dei prodotti e quindi trovare del prodotto e quindi trovavamo all'interno anche il comando di Dynamo che scusami la riga dedicata appunto all'implementazione la riga scusami il comando che ci permetteva di che ci permetteva di poter installare proprio Civil all'interno di Dynamo all'interno di Civil nel 2021 invece questo non non accade è automaticamente incluso all'interno del programma stesso sia Dynamo che il lettore di Dynamo noi vedremo entrambi voglio farvi capire che cosa accade perché uno potrebbe dire sì vabbè ma se mi metto a creare uno script all'interno di Dynamo per creare una superficie io non la finisco più in realtà il lettore di Dynamo ci aiuterà molto a questo punto lancio Dynamo che mi permetterà appunto di creare lo script in questo caso allora a questo punto che cosa faccio parto da un qualcosa che già avevo creato giusto per non partire da zero altrimenti non la finiamo più allora gli step ovviamente sono tanti sono vari gli step che bisogna eseguire all'interno di Dynamo ovviamente qua innanzitutto io dobbiamo dire devi caricare il file e quindi devi caricare il file txt in questo caso ci sono proprio i comandi dedicati proprio all'importazione all'esportazione dei formati CSV Excel quindi vedete come utilizzare Dynamo permette anche di collegare Excel il file testo scusami il txt e il CSV direttamente a Civil sia come import ma anche come export quindi sono in grado anche di esportare i dati all'interno da Civil verso Excel utilizzando appunto uno strumento come Dynamo a questo punto gli dico di importare i dati gli dico ovviamente la colonna all'interno del testo che cosa rappresenta infatti qua vedete ho creato delle note per capire che cosa rappresenta ognuno quindi l'est nord delle quote e mi vado a creare i punti bene una volta che io creo i punti io li visualizzo all'interno di Dynamo però che cosa accade che io fai meglio dire aspetta ma io qui non vedo niente hai ragione perché in realtà quello che ho fatto adesso all'interno di Dynamo è semplicemente creare i punti ma i punti li ho creati all'interno di Dynamo questi sono punti Dynamo perfetto a questo punto devo proseguire e dire mi devi trasformare questi punti in punti Kogo e all'interno di Civil noi abbiamo proprio la possibilità di utilizzare quelli che sono appunto dei command dedicati diciamo ai punti Kogo a questo punto vedete crea un punto Kogo da un punto Dynamo a questo punto i punti rappresenta la geometria i layer dei punti Kogo gli dico layer 0 poi lo cambio terreno sarebbe il nome da segnare ai punti che ovviamente avranno un contatore quindi saranno numerati e poi ovviamente mi dice sì ma in quale documento ti devo andare a posizionare questi punti Kogo qui e poi eventualmente una descrizione che io attualmente non metto a questo punto comincio a fare segui mi chiede ovviamente come devono essere applicati i nomi gli dico un contatore mi do il tempo di eseguire l'operazione è noto che mi importi i punti quindi mi ha creato i punti Kogo bene vado avanti non finisco qui non mi basta a questo punto mi voglio creare un gruppo ok che contenga solo questi punti allora mi vado a creare il mio gruppo punti creo un gruppo punti da punti Kogo bene ottimo punti Kogo sono questi mi chiede il nome che gli ho dato punti Kogo GRND che serve punti Kogo document come sempre mi chiede il documento dove deve essere posizionato questo questo gruppo punti e poi mi chiede eventualmente una descrizione anche qui potete inserirla ad esempio metto un codoblock che gli scrivo non so gli scrivo punti con diciamo descrizione GRND ok perfetto ancora faccio esegui facciamo step per step vediamo che cosa accade vediamo che all'interno della scheda di Civil in gruppi di punti mi trovo proprio il gruppo che ho creato punti Kogo GRND che appunto mantiene anche la descrizione che gli ho dato punti con descrizione GRND bene proseguo non ho ancora finito ovviamente perché ovviamente manca l'ultimo passaggio quindi il passaggio di dover andare a creare la superficie team anche qui abbiamo scusate ho sbagliato selection civil object surface ok da punti a questo punto Kogo point gruppo name glielo metto scusate il nome non il gruppo comunque gli do il nome facciamo così ok ok eccolo qua mi faccio dare il nome dal gruppo punti perfetto glielo associo gli do il nome alla superficie team gli do un layer zero ma posso quando voglio cambiare e vado in document document seleziono e associo faccio esegui aspetto vado all'interno e mi crea la superficie bene i passaggi più o meno sono gli stessi perché se non ho ragione dici aspetta allora io ho creato il mio script all'interno di demo selezionando il file bene creando i punti Kogo ok creando il gruppo di punti bene creando la superficie quindi alla fine non ho fatto niente di diverso da quello che ho fatto all'interno di diciamo con l'approccio civil è vero e uno potrebbe dire aspetta però io che faccio ogni volta che devo crearmi una superficie mi devo scrivere mi devo andare a selezionare o devo impostare cioè mi devo creare uno script uno script del genere eh ma io così cioè perdo più tempo nel andare a ricordare i nodi a selezionare i nomi e su questo do ragione però mi metti in un nuovo file e gli dico e vi dico questo una volta che io creo lo script e lo rendo generico perché io non ho focalizzato io non ho creato uno script specifico per quel file testo cioè che contenga solo quelle informazioni io non ho scritto a mano le coordinate est est nord e la quota z di ogni punto ma io ho richiamato un file esterno quindi che cosa vuol dire vuol dire che quello script io lo posso utilizzare n volte ogni volta che mi trovo ad avere un file testo con quella descrizione con diciamo con la formattazione p pensd numero est nord quota descrizione e uno dice aspetta però ma io come faccio a dire che in realtà devi prendermi soli i punti che hanno una certa descrizione perché in realtà se facciamo così chiudo un attimo Dynamo salvare no io all'interno di Dynamo posso dire posso assegnare ad alcuni nodi la funzione di input posso dire vedi che tu rappresenti l'input e quindi vuol dire che io sono in grado di poter dire vedi che tutto resta così com'è però uno deve cambiare due devono cambiare ad esempio in quello script io ho dato come input la descrizione dei punti nel senso che non deve essere sempre il gruppo punti grnd che deve essere importato perché mettete caso che il topografo non utilizzo con la descrizione che faccio resto fregato e devo ricrearmi lo script no quello lo faccio cambiare ogni volta e cambio ad esempio anche il nome dei gruppi il gruppo dei punti il nome della superficie nei layer perfetto ma come faccio ogni volta devo tornare nel file nello script e cambiarlo no in realtà il lettore da enamo una volta impostati alcuni nodi come input mi permette di selezionare quel file che io ho salvato in questo modo questo è quello che abbiamo modificato noi però non l'ho salvato e utilizzo questo che rappresenta la stessa cosa e gli dico utilizzo il comando modifica input e mi dice e che cosa mi chiede dice vedi che a quello script che tu hai creato hai impostato alcuni input bene e a quegli input sono associati questi valori che avevo visto insieme punti da importare era grnd il nome gruppo punti era punti cogo grnd il nome della superficie era tin il layer era 0 e punti cogo era 0 bene ma io qui li posso cambiare perché sono input ad esempio questo lo posso chiamare nome layer se non ricordo male dovrebbe esistere un layer che si chiama citopo cambio il nome della superficie chiamo superficie tin nke university descrizione grnd a questo punto io richiamo il file che mi occorre ad esempio in questo caso richiamerò sempre lo stesso perché tanto alla fine al momento ho solo quel file che ha quel formato però nessuno mi vieta di andare a cercare ora faccio giusto una ricerca ma tanto prendo sempre lo stesso ma meno per farvi capire che potete andare dove volete eccolo qui apri lo legge perfetto mi chiede qual è la descrizione io dico grnd dopo facciamo una prova mettendo un'altra un'altra descrizione perfetto li ho impostati tutti sì avvia mi chiede i nomi devono essere con il contatore io do il tempo che mi crei tutti gli oggetti punti gruppo punti superficie in funzione della descrizione che gli ho dato e infatti eccola qui ecco la superficie che cosa voglio dire quindi in definitiva questo script qui può essere utilizzato da chiunque anche chi non conosce Dynamo basta che come input gli da questi qui gli da questi input che gli ho selezionati che ho messo all'interno del lettore di questo diciamo dello script che ho creato quindi seleziona il file che ha questa descrizione pens di dimmi quali punti devono essere importati quindi dimmi la descrizione dei punti da importare e poi dopo divertiti a dare dei nomi tanto vedete superficie quale nome ha dato tnk university gruppo punti punti cogo grnd ok stessa cosa se andiamo all'interno delle proprietà della superficie e andiamo a visualizzare ok perfetto su effice top c top ok quindi alla fine si faceva così lo capiamo meglio ok vedete ci topo quindi alla fine siamo in grado attraverso solo questi comandi di poter creare una superficie quindi una volta che mi creo lo script come abbiamo visto e assegna ad alcuni punti ad alcuni nudi la funzione di input io utilizzo direttamente il lettore di Dynamo che mi dà l'elenco degli input li cambio e mi aggiungo nella superficie quindi non dovete confrontare l'approccio civico l'approccio di Dynamo nella creazione dello script solo la prima volta ma da ora in poi avendo questo script creato ogni volta che mi trovo ad avere una descrizione penso di io utilizzerò questo script cambio direttamente la descrizione dei punti e ho finito avvia aspetto qualche secondo ovviamente le operazioni che devi fare sono tante importi dei punti seleziona solo i punti che erano con la descrizione crea il gruppo crea la superficie un po' di qualche secondo glielo posso dare visto che poi fa tutto lui quindi ripeto un programma come Dynamo permette di ottimizzare il lavoro che diciamo facciamo all'interno di Civil ok quindi perché non utilizzare e sfruttare questo diciamo questo strumento voglio farvi giusto l'ultimo esempio ok in caso mai chiudo un attimo gestisci e lo riapro da qui così almeno siamo sicuri che è associato a questo file perfetto cerco di nuovo lo script gli cambio gli input questa volta gli dico non grnd cioè quindi non la descrizione grnd e punti cogo ma gli do se ricordo bene c'era anche vediamo subito si prendiamo flow flow io lo metto vediamo che cosa mi tira fuori superficie layer va bene tutto quanto questa è la descrizione questo è il file di input gli do il tempo di caricare ovviamente il nome contatore ok vediamo che cosa eccolo qui ed ecco qui la superficie superficie tin gruppi di punti eccolo qui tasto destra proprietà se andiamo all'interno di elenco punti vediamo se mi da la descrizione il nome va bene però volevo vedere la tortigia vediamo se da qui lo capiamo ok devo aggiungere io all'interno dello script appunto un parametro che mi dia almeno mi riporti la descrizione dei punti comunque vedete alla fine mi importa la superficie mi crea la superficie a partire dal gruppo di punti punti cogo o meglio punti cogo gnd che in realtà dovrei cambiare e chiamare flow e quindi alla fine ottengo la superficie quindi ripeto l'approccio civil controverso sull'approccio dynamo ovviamente deve essere confrontato tra tutti i comandi che avevo visto inizialmente per creare direttamente da civil e il lettore dynamo perché una volta creato io perdo tempo una prima volta ma se il topografo mi restituisce sempre lo stesso file se io lavoro sempre lo stesso topografo e so che il topografo mi restituirà sempre quel file oppure sono io a dire ok cambio il topografo mi devi restituire questo tipo di formato txt ovviamente è possibile creare gli oggetti e ottimizzare altri flussi di lavoro quindi non solo diciamo i flussi di lavoro legati a un file testo un file excel un file csv ok quindi è un discorso generico in questo caso ho fatto un esempio sulle superfici a parte da punti coco però il ragionamento vale per qualsiasi altro flusso di lavoro all'interno di sì ok anche qui ormai ve lo siete imparato a memoria il corso live impale infrastrutture due moduli modulo A modulo B 5 lezioni da 4 ore parte 10 giugno e diciamo un modulo A un po' più base un modulo B più avanzato dove vedremo anche Dynamo for Civil 3D quindi vedremo determinati script le basi quali sono i nodi principali e poi anche come creare determinati script perché comunque ripeto non è semplice ma si impara ecco quindi è un programma che consiglio di imparare di utilizzare ottimize il lavoro e è questo quindi utilizzate Dynamo bene detto questo Alessandro io termino qui l'intervento anche sul su Dynamo per per Civil 3D bene leggo giusto le solite domande le domande allora dove si trova la libreria Autodesk di Nudi per Dynamo ok forse questa è una domanda prima che aprissi Dynamo stesso quindi Gianfranco basta che vai all'interno di Civil scheda gestisci apri Dynamo il comando e le hanno un'interfaccia dedicata a Dynamo sulla sinistra c'è proprio il pannello con diciamo con tutti i nudi ok è lì che verranno utilizzati è da lì che puoi utilizzarli li puoi selezionare utilizzare sì questa è l'unica domanda che sì aggiungo solo a quello che hai appena detto che in alcuni casi magari vale più per Revit che non per Civil però in alcuni casi ci sono soprattutto per delle applicazioni che magari sono già state sviluppate da altri utenti è possibile scaricare dei pacchetti allora questo deve essere ricercato all'interno di Dynamo dove c'è proprio una funzionalità relativa al download dei pacchetti con cui fare la ricerca e scaricarli esatto in ombre nella versione 2021 parlo di Revit laddove fossero state predisposte già degli script diciamo di Dynamo in versioni precedenti di Revit facendo uso di nodi particolari presi da pacchetti appunto scaricati invece di lasciare all'utente il compito di cercare i diversi pacchetti che sono necessari per far funzionare le procedure ci pensa direttamente Dynamo a ricercare quali sono le funzionalità ricerca individua i pacchetti di scarica in modo tale che l'utente si ritrovi già nelle migliori condizioni per poter per poter lavorare in passato quando si cambiava release magari determinate procedure di Dynamo che venivano eseguite anche solo con il player non funzionavano proprio perché mancavano diciamo così dei pezzi i pacchetti questo adesso lo si lo si bypassa almeno in Revit ci pensa lui a rintracciare quanto è necessario per poter far funzionare i file bene perfetto ok ok allora se non ci sono altre domande Marco ti ringrazio per le tue per le tue sessioni direi che sono state molto chiare molto interessanti hai fatto una panoramica saltando su n prodotti differenti direi che è stato tutto molto molto chiaro se non ci sono altre domande possiamo quindi concludere la sessione della della mattina poi invito ovviamente i partecipanti che hanno seguito la sessione di questa mattina a ricollegarsi se lo desiderano alle ore 14 dove partiremo invece con le altre sessioni del pomeriggio da parte mia grazie un grazie ancora Marco grazie a tutti grazie a te Alessandro e a questo pomeriggio per chi ci sarà grazie e buona giornata buona giornata a tutti grazie a tutti